Quindi stai dicendo che è per stasera? Hai convocato gli studiosi, proprietari, professionisti, tutti? Sei sicuro tutti quanti? Bisogna che confermino. Sì, si hanno confermato tutti. Coronello! Buongiorno mio, coronello! Ne arriverà anche dell'altra, eh? No, ma prego, si accomodi! Tu dirai una cosa? Tu la spiegherai perché tu hai il tuo... Il tuo messaggio! E oggi è il giorno in cui lo dirai. Il mio proclama per l'umanità. Voglio la mia mamma. Tu avresti davvero potuto essere qualcuno se avessi voluto. No, abbiamo fatto bene a essere modesti, sì. Se avessi seguito la tua vocazione, saresti diventato un capo. L'ho disintegrato! La mia vocazione è diversa! Noi ritroveremo noi stessi. E forse non ti sentirai mai più orfano, tesoro mio. Lo sapevo che non era un sogno.